Salve a tutti signore e signori, il vostro strano amico Andrea Beneventi è qui per parlare non di DJ Polystation Lo so il titolo può trarre un po' in inganno, però lui sarà soltanto il tassello portante che mi aiuterà a svolgere la mia tesi Per chi non lo sapesse, quasi due settimane fa mi sembra, intervistammo DJ Polystation su Twitch E tra le 300 domande che noi porgemmo a DJ Polystation ci fu quella di Cosa ne pensi del ritorno di Zeb89? Intervista che tra l'altro noi abbiamo repubblicato su YouTube ieri pomeriggio Quindi ho deciso di parlare di questo argomento adesso che la live è stata re-uploadata per intero su YouTube Ve la lascio in descrizione, così almeno per darvi più contesto sulla situazione Ovviamente quello che andrò a riportare è soltanto il parere personale di DJ Polystation Lui non sta cercando di dettare la verità a nessuno In poche parole, nella sua risposta a lui non andò neanche contro Zeb Ma più che altro a quella fetta di YouTube che andava contro la community di Zeb In parte per il classico discorso dell'invidia perché Zeb è famoso e noi no E dall'altra soltanto per avere attenzione Perché purtroppo, soprattutto su YouTube Italia, ci piace la caciara, ci piace molto il dissing, il gossip E quindi a prescindere da come si fosse espresso Zeb Tutti gli hater avrebbero trovato in questa faccenda terreno fertile sul quale spalmare merda E io posso anche essere d'accordo su questa opinione Però la verità è che il motivo vero per cui tantissime persone se la stanno prendendo con i fan di Zeb È molto più profondo di quello che voi possiate pensare Insomma, non è un mistero che quasi un mese fa Zeb decise di ritornare su YouTube Italia Con una live di Resident Evil 4 Però nei primi 10-15 minuti di essa decise di prendersi il suo tempo Per fare un recap di tutti gli sbagli che lui commise in passato Arrivando alla fine del discorso chiedendo scusa E qui uno può dire Andrea scusa stai facendo tutto questo ambaradam Per poi dire che alla fine lui ha chiesto scusa Certo Ma il problema non è tanto la scusa in sé per sé che comunque ci sta Ma è come l'ha espressa il problema Guardandolo negli occhi sembrava che lui stesse chiedendo scusa Perché sapeva che il pubblico stava aspettando nient'altro che questo Ovvero sentirsi dire da lui scusa Quando lui segretamente pensava ancora di essere dalla parte della ragione Però per rendere contenti tutti e per pensare al proprio lavoro ha detto Ok, volete le mie scuse? Eccole qua Intanto vaffanculo che devo giocare Ovviamente non si è espresso così Però se leggiamo tra le righe Sembrava che volesse intendere questo E io sono contento di non essere l'unico che la pensa così Infatti finita quella live ci sono stati tantissimi youtuber Che esprimevano il loro dissenso Da gematria, tweener, eccetera eccetera Ok, Zeb potrebbe metterci tutta la volontà del mondo nel chiedere scusa Però avendo in mente la gravità delle cose che ha fatto Un semplice scusa non basterebbe Vi ricordo che lui ha pesciato in faccia a tutta la sua community che scriveva in italiano nelle sue live in inglese E per fare un esempio più recente Dove Zeb decise di segnalare la pagina Facebook di uno che semplicemente ripostava alcuni meme storici Ovviamente senza arrivare ai fini della diffamazione E non solo il giorno stesso in cui lui segnalò la pagina Denunciò anche il ragazzo mostrando anche al pubblico l'indirizzo di casa, cittadinanza, numero di telefono Comunque tutto quello che riguarda la sua vita privata Immagina essere un fan accanito che vuole soltanto mostrare al pubblico e a Zeb in primis quanto lo ammira E poi ritrovarsi la mattina dopo con l'account chiuso Quindi a conti fatti è giustificabile il fatto che molti haters se la prendino con i fan che continuano a seguire Zeb Nonostante le merdate che lui abbia fatto nella sua carriera Perché ripeto, lui non sembrava assolutamente dispiaciuto Magari poteva anche esserlo Però come al solito Zeb tende a mettere troppo personaggio Adesso io non sono uno psicologo e quindi io dovrei farmi i fatti miei Però se fossi lui io mi farei un mesetto di esame di coscienza Per poi tornare dicendo scusa dal profondo del mio cuore Non come Zeb Ma come Enrico Kenneth Caselli Questa è la mia opinione e spero che voi la possiate rispettare Come al solito vi ricordo di lasciare un like, un commento, un'iscrizione E condividere sia il video che il mio canale con i vostri amici Ciao 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 Grazie a tutti